ok ragazzi si continua anche con lego marvel avengers in compagnia del vostro diablo dex vediamo un po le ultime cosa bisogna fare adesso è serviranno ok perfetto ok allora è un po il volume qui come si ammessi perfetto così vai usiamo iron man visto che lui può far tutto diciamo o quasi va beh in questo caso di può far tutto ragazzi ecco vola fa quello che vuole ok posso scendere giù così asfalto per bene ok va bene così va bene così stai tranquillo stai tranquillo non metterti contro iron man perché poi ti faccio il culo e non è che uso le mezze misure poi no quindi allora vediamo un po qui ok quindi ora non posso vedere da che parte vado e vado qui ragazzi iron man al montaggio al montaggio fai il bravo fai il bravo bene teniamo gli occupati allora vai fatemi usare capitano america fatemi usare capitano america ok ottimo ragazzacci vedete vedete qui che stile oppure no oppure no eh allora vediamo un po se magari anche qui serve iron man si vabbè ma si sapeva e si sapeva iron man tu mi servino però ora dove mi dici dove cazzo vabbè è rimasto lì tornerà da solo tornerà per i fatti suoi ok allora vai qui qui serve capitano america qui serve capitano america ragazzi fuori uno ottimo così ottimo ottimo vabbè ragazzi dai me la cavo abbastanza bene me la cavo abbastanza bene cos'è ora credevo suonasse meglio ok 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 perfetto perfetto allora vediamo un po ora qui se ci sarà qualche boss da affrontare oppure no eh avevo stoppato un po questa serie ma perché mi sono concentrato un po su television eh non peraltro ragazzi non perché non mi piace quindi sia chiaro questa cosa bene cosa faccio da qui andiamo qui al computer no bene che dite lo salviamo sto fenomeno qui allora vediamo un po da che parte bisogna andare non ci sto capendo molto eh tatata che facciamo che facciamo il bradone cosa facciamo super bradone qui ho capito ho capito ragazzi vai bisogna spegnere qui passo al montaggio qui eh 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 tranquilli tranquilli non c'è problema ok cosa si prova ad essere un genio non si prova nulla non si prova nulla oh ok da che parte vado ora dove vado mi son perso mi son perso ragazzi vabbè scherzo dai sto scherzando allora lì no torniamo dietro non saprei eh vediamo tutto può essere qui veramente non so dove devo andare ragazzi voi ci scherzate ma eh 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 da che parte vado bradone da che parte vai ottimo così vai è qui che devo andare è qui o no non è qui perfetto ragazzi perfetto eccola c'è da ridere qui eh più che da ridere c'è da piangere ecco se allora questo qui che deve fare allora iron man facciamo una cosa va vediamo un po' qui vediamo un po' qui calma calma non so se qui ragazzi io ci sto provando e voi sicuramente però è qui eh ottimo e adesso eh eh ora ci penso io qui ci penso io tranquilli ok distruggo tutto tanto a distruggere sono un artista sono un vero artista e tranquilli che tra due ore il gameplay si conclude basta il montaggio iron man non pensare solo a fare i danni ok ok ma che bello ma che bello no capitano america tu resta lì tranquillo resta lì non ti ci voglio non ti ci voglio mi basta solo iron man scendiamo facciamo scendere capitano america ragazzi anche se a me qui mi serve iron man eh vediamo un po' eh si mi serve proprio lui e adesso mi serve capitano america e vabbè ragazzi lo stile lo stile qui c'è poco da dire c'è poco da fare oh allora guardate che bordello qui ah ok non posso non posso distruggerlo com'è ah ecco ecco volevo dire io volevo dire è argentato ci pensa il signor iron man ok ok vieni qui va vieni qui super capitano america ottimo così mi ricevi ripeto mi ricevi Hulk tutto incazzato lì ragazzi eh c'è Hulk tutto incazzato eh oggi attenzione non lo fate nervosire più di tanto lì Hulk che poi a questo punto niente può sorprendervi vai passo al montaggio passo al montaggio ragazzi questo livello mi sta piacendo molto e devo dire che non so è un qualcosa che mi da mi da ispirazione ecco ma dovete stare calmi dovete stare tutti calmi no e questi qui non stanno calmi ragazzi e no e no che bordello che è però che bordello speriamo che riempio la barra gialla perché veramente mi piace riempirla ma non sempre purtroppo succede che riesco a riempirla e non mi sta bene e non mi sta bene ok di qua ci piazziamo iron man la porta si apre noi andiamo finiamo il livello no vabbè scherzo dai non è così semplice non è così semplice da che parte si va da che parte si va ragazzi da che parte andiamo e certo e certo Iron Man fa subito lui vola i relè sono intatti la prossima mossa dovrò andare dentro a spingere star perdiamo quota sì ho notato sì ho notato ancora non ha imparato natasha gli umani ci ritengono immortali verifichiamo indietro prego ti piace nemmeno io so che cosa faccia lo scopriamo nooo nooo uh oh nooo 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 ragazzi il livello è finito Non ho riempito la barra gialla Dai Non va affatto bene così Volevo riempire la barra gialla Eh vabbè dai Sarà per la prossima volta Sarà per la prossima volta Eh si 73% Vuoi ditemi se devo accontentarmi Del 73% Non mi accontento No ragazzi E' poco 73% Vabbè dai Per questa volta mi accontento Faccio finta che mi accontento Continua storia Va benissimo Sarai sconfitto Manchi di convinzione Non credo di essere Ecco che cosa fa Agente Colson è a terra Non è riuscito a fartele autografare C'era un'idea Stark lo sa bene Era il progetto Avengers Volevamo mettere insieme Un gruppo di persone eccezionali Sperando che lo diventassero di più Colson è morto Credendo fortemente in quell'idea Negli eroi Non mi faccio incantare da fiori Nemmeno io Dobbiamo guardare avanti e portare a termine la missione A Loki serve energia Facciamo una lista È personale Vuole batterci ed essere visto mentre lo fa Vuole un pubblico Questa è la prima Loki è una vera e propria diva Vuole fiori Vuole parate Vuole un monumento in cielo con il suo nome sopra Vuole un Name Vuole un volume Vuole un pneumatico Vuole un 됩니다 Vuole un nome Vuole un numero Vuole un libro Vuole un Trump Vuole unnemo Vuole un Omega Vuole un riflesso Vuole ungone Vuole un nuovo Vuole unako Vuole un manga Ok ragazzi Allora il gameplay si conclude qui Spero che vi sia piaciuto Io spero sempre ragazzi Che vi sia piaciuto A questo punto faccio salva ed esci E andremo avanti Con il prossimo gameplay ragazzi e ragazze Quindi un saluto a tutti E a tutte dal vostro Diablotex e tranquilli Che andremo avanti fino alla fine Anche con Lego Marvel Avengers Ciao a tutti e appuntamento Con i prossimi gameplay Magari aspettiamo che torna Alla schermata principale Che è più bello salutarci in questo modo Ciao a tutti ragazzi alla prossima